E già qualcuno comincia a parlare di recessione, del resto basta un dato, quando al momento in cui noi su 14 miliardi di importazioni dalla Russia, ben 8 miliardi sono dedicate ai prodotti energetici, basta questo per testimoniare questo andamento che io definisco può essere un andamento di natura decrescente. Siliver Pescara, il Rotary dedica con tanto di targhe una serata alle eccellenze d'Abruzzo, sono 6 e hanno storie fuori dall'Abruzzo davvero importanti, specie in questo momento, eccole. Sicuramente la nostra missione è quella di portare il nome dell'Abruzzo in giro per l'Italia nel modo più rappresentativo possibile. Qualcosa importante anche nel sociale, interessate? Eh sì, riconosce questa terra come ho detto prima, alla quale io, la mia famiglia, prima di me, mio fratello, mio padre, siamo stati sempre molto legati. Siamo presenti in 60 nazioni nel mondo, tra cui anche Russia e Ucraina. In Russia e in Ucraina, cosa piace del prodotto vostro italiano? Allora, in Russia vendiamo moltissimi cantucci e amaretti di tutti i tipi, in Ucraina cantucci, amaretti, cookies e crociate. Normalmente sono abbastanza schivo, per cui non partecipo facilmente a queste cerimonie, però questa cerimonie si colloca in un momento particolare, l'Userene S.P.A. che abbiamo venduto in novembre dell'anno scorso, per cui simbolicamente era un riconoscimento importante. La nostra storia inizia alla fine degli anni 70 con mio padre, che da origine è a Rusticalla d'Abruzzo, con un'idea di pasta artigianale da esportare nel mondo. Oggi esportiamo in 70 paesi. Lo sguardo viene rivolto a tutto il mondo imprenditoriale, che esce da una pandemia devastante e sta per affrontare un nuovo grande problema, che è quello della guerra in corso. I riconoscimenti sono alla base della vita, tutto si fa per avere, non dico che si fa apposta per avere un riconoscimento, ma fa sempre piacere, è una cosa molto naturale. Sono più importanti gli affari o i riconoscimenti? Gli affari.